Sindaco Cacioppo, questa sera a Sambuca di Sicilia, un'interessante manifestazione denominata Calici di Stelle e Mercanti di Notte. Di che cosa si tratta? Sì, è un appuntamento annuale, ormai da 25 anni che si celebra a Sambuca, ovviamente anche nel territorio, con diverse cantine che hanno già, in verità, ieri, la notte di San Lorenzo. Porta in cena in piazza tutte le cantine del territorio, stasera avremo 10 cantine presenti, con disgustazione di vini, con prodotti tipici ovviamente. Quest'anno abbiamo aggiunto dei mercanti, degli antiquari, del territorio, degli artigiani che esporranno le loro raccolte, in ogni caso i loro prodotti e quanto di artigianato produce. Quindi abbiamo messo due eventi insieme, giusto per rafforzare l'evento e per l'uno rafforzare l'altro. Un evento che ormai a Sambuca è un'istituzione, che dà la possibilità di raccontare un po' le tipicità del territorio, ma anche occasione di affrontare e stare una serie insieme, nel corso in piazza, fin quando il tempo ce lo permette. Sambuca che tra l'altro ha diverse vitivinicole molto importanti. Sì, è un territorio che sappiamo ormai cablato al vino, diciamo, c'è grosse cantine, grosse etichette, che danno, diciamo, sicuramente forza al territorio, la colonna portante dell'economia di Sambuca, ma sicuramente raccontano le bontà del territorio stesso, diciamo, del monte stesso. I vini del territorio sappiamo che arrivano in America, arrivano in Asia, arrivano in tutta Europa. Tra qualche giorno l'estate sambucese invece proseguirà con le feste Saracena. Sì, è un altro evento che è una rappresentazione itinerante del centro storico, siamo alla quarta edizione, un po' che racconta un po' la fondazione di Zabut, quella che è, diciamo, la tradizione, diciamo, araba-sambuca, rispetto a quelle che sono alla riembientazione di questo momento. Ci saranno 130 figuranti nel centro storico, ci sono 18 scene animate, 18 scene raccontate, all'interno delle quartiere arabo, le giornate saranno il 19, il 20 e il 22 agosto, invitiamo tutti a partecipare a un evento, diciamo, particolare, di una rivisitazione estiva, non comune, ma soprattutto che ci permetta a noi, ma non solo ai sambucesi, di riappropriarsi di quella che è la tradizione del posto. Sicuramente sono iniziative che hanno bisogno della sinergia tra diverse componenti. Sì, certo, è chiaro, mettere insieme 120-130 figuranti non è facile, ormai, diciamo, il format, diciamo, è stato già sperimentato e colorato, ma ogni anno si aggiungono nuove scene, si aggiungono nuovi figuranti, si aggiungono, ovviamente sono tutti volontari che danno una mano affinché questa offerta culturale e storica di Zambuca arriva a tutti e arriva nel migliore dei modi.